Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Torno operativo lo sportello a Sirvi per il contrasto alla violenza domestica e di genere l'abbraccio. Negli anni passati era stato affidato all'Associazione Nuova Civita, ora il servizio passerà in mano alla cooperativa Elefante Rosso, uno sportello che abbraccia tutto il territorio della zona fino, arrivando al Cerrano, mettendo a disposizione assistenti, psicologi e avvocati. Un servizio che ha visto già negli anni passati diversi interventi. Mi viene da fare un ringraziamento alla Nuova Civitas con l'avvocato Luigi Corneli, che ha eseguito un ottimo servizio con la prima parte dello sportello. Oggi si va avanti, le cose si evolvono, le associazioni arrivano a un punto che si fermano e quindi riparte con molta forza con l'Elefante Rosso, una nuova associazione che secondo me potenzierà in senso positivo questo servizio. Nel corso del tempo abbiamo riscontrato che le problematiche ci sono, il Covid ha dato un impulso negativo verso questa fase, però Silvia è pronta, l'amministrazione comunale ha fatto un ottimo intervento con questo servizio. Diciamo che l'ultima volta che abbiamo presentato la relazione attraverso l'Associazione Nuova Civitas, che in precedenza gestiva lo sportello, è risultato che ci sono stati 42 contatti durante l'ultimo anno, una metà poi presi in carico proprio effettivamente, quindi chiedevano appunto informazioni su come muoversi per gestire determinate situazioni e lo sportello ovviamente era lì per ascoltarli, per cui un numero abbastanza consiglierevole. Novità per quanto riguarda anche l'accoglienza, in particolare con l'inserimento nel mondo del lavoro. Abbiamo appunto inteso implementare quella che è l'attività comunque che era già iniziata con la precedente gestione e fornendo anche oltre che al supporto psicologico, quindi alla consulenza legale, anche tutta una serie di servizi volti all'orientamento della donna vittima di violenza, sia per quanto riguarda la formazione che il mondo lavorativo. È per questo che ci appresteremo a iniziare tutto un lavoro di collaborazione, anche mediante l'avvio di convenzione e protocolli con tutti i soggetti, quindi anche a livello di aziende, a livello appunto di enti che a vario titolo ci possono supportare in questa attività.